Alla lettura dei giudici, ancora uno, finisce! Ci sono emozioni uniche che io ho avuto la fortuna di provare, di portarle fino alla fine, quindi arrivare fino al podio, però anche solo partecipare da una carica estrema. Vi invito i genitori a portare i bimbi in palestra perché è un buon metodo che combatte il bullismo a scuola, il deficit di concentrazione, non è solo uno sport ma anche un altro, quindi vi invito a provarli. Io invito tutti gli sportivi a non fare uso di sostanze perché non è quello che ti fa vincere, perché non saresti tu a vincere ma sarebbe qualcos'altro a vincere per te. E penso che se uno è sportivo fino in fondo non ci dovrebbe neanche pensare minimamente a queste cose.